Sì, purtroppo siamo ancora in una fase di costruzione, nel senso che comunque il palazzetto ancora non è completato definitivamente, bisogna ancora pulirlo, sanificarlo, quindi crediamo, speriamo di riuscire a iniziare il precampionato al massimo lunedì. Una settimana dal primo impegno ufficiale contro Sant'Antimo per la Supercoppa, coach De Gennaro però illustraci, dacci i nomi del roster che vanno a comporre la Scandone o almeno le trattative che hai concluso. Supercoppa diciamo che in questo momento è l'ultimo dei nostri pensieri, detto ciò fino ad adesso abbiamo controattualizzato e firmato il premaker Valerio Costa, la guardia Combo Marra, il 3 Sosa Dimitri Sosa e Gian Paolo Riccio. Stiamo in dirittura d'arrivo con gli under, credo che tra oggi e domani dovremmo chiudere e siamo ancora alla ricerca di altri due lunghi da quintetto con la speranza di trovarli senior, se no prenderemo sicuramente un senior nel reparto lunghi e un under ancora nel reparto lunghi. Sulla carta nomi importanti, la società vuole regalare un roster degno a decennale alla città di Avellino. La società ha fatto uno sforzo in mano, devo essere onesto e pubblicamente li ringrazio perché hanno lavorato tutte le state per cercare di risolvere le pendenze vecchie e diciamo che mi hanno messo a disposizione un budget discreto per poter creare una squadra meglio che si può in questo momento di mercato. Degli acquisti che abbiamo fatto fino adesso sono contento, erano le mie prime scelte di ognuno di loro e sono contento che i ragazzi comunque che avevo opzionato un paio di mesi fa mi hanno aspettato fino a oggi. Gerone di Ferro, dove può arrivare questa scanduna? Ma questa è una bellissima domanda che non so risponderti, purtroppo noi come si sa partiremo con un handicap, il campionato quest'anno è difficile, il livello si è alzato di molto secondo me, le squadre sono rinforzate in modo elevato, noi cerchiamo di essere una buona squadra quindi aspettiamo di concludere in rossa per fare poi un resocondo finale. Logicamente il nostro primo obiettivo è la salvezza però cercheremo di sognare strada facendo.